Attestato di civica benemerenza a gruppo missionario Padre Daniele, la città riconoscente per essere stato punto di riferimento e di collegamento fra Pontremoli e le tante missioni capuccine in Centrafica e per aver sostenuto nel tempo, con l'aiuto ed il lavoro di addetti e tanti volontari, la loro presenza in terre lontane, per aver inoltre saputo raccogliere con entusiasmo, infaticabile impegno e preziosa presenza il testimone dei frati capuccini ed aver quindi mantenuto, dopo il loro forzoso allontanamento, il convento quale punto di riferimento, di preghiera e di molteplici attività, tra le quali quella di accogliere i pellegrini in cammino lungo la via Francigena, la via degli Abati, la via del Volto Santo e quella delle custodie e delle reliquie del Santo di Padre Pio. Grazie.